E' modata Vabbè ti do questo e tu sei modata Vabbè Vai drop Io mi fido direi GG Su Youtube video è durato due secondi Video è durato due secondi E' l'inventario che ti voleva modare Non te lo diamo Dai cazzi Ma che l'hai truffato o ti ha truffato lui? Mi ha truffato Mi ha truffato lo scappo E mi ha spulso Io mi ero fidato di lui E gli dobbiamo dare pure 90 armi Eh Che gli dobbiamo chiedere 90 armi o tale? Ma intanto non aveva senso Perché se lo fai dopo Noi non te le richiediamo Ma infatti Almeno prima va te le dare Daga ho appena iniziato a registrare Ho truffato Ho detto io mi fido di lei E mi ha spulso Cioè Ma 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 che video di merda Raga Non si fa più prove del secolo Che poi non è nemmeno chissà che Cioè Ha un perk però Bello Bello Grazie a tutti